Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di febbraio 2024. Gli amanti ragazzi, ma che bello! Quando c'è la carta degli innamorati, qui la chiama gli innamorati, si parla di amore, però è un amore a 360 gradi, quindi può essere sia l'amore romantico che l'amore verso un figlio, ma anche l'amore verso se stessi, un figlio, un genitore, nel senso un parente, ok? Magari anche un amico. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto, nella descrizione del video. E sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo me in caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del 2024, il link alle taropratiche del 2024 che sono come pomeriggi di esercizi su come affrontare le letture dei tarocchi e vi ricordo anche che fino alla fine di febbraio è in promozione la lettura karmica. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Intanto tenete presente che queste sono letture sugli affetti in generale, quindi possono vibrare per la famiglia, piuttosto che per una relazione di coppia, piuttosto che per una relazione, diciamo, romantica. Io vi dirò l'energia, il movimento energetico più importante e via via farò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Allora ragazzi, qui si parte da una torre, da un nove di bastoni, il sole, ruota della fortuna, la sacerdotessa, tanti arcani maggiori devo dire, un altro arcano maggiore, la temperanza e un altro arcano maggiore, la forza, wow, stesa super potente. Allora, c'è la torre però, come carta iniziale. Quando c'è la carta della torre perché qualche tipo di certezza vi è caduta, se non è ancora successo potrebbe essere lì lì per succedere, dipende dalla decade di nascita in cui siete nati, ma comunque spiego tutto nella guida, nel video della guida. Molte volte ha a che fare con questioni egoiche, quindi magari sono credenze, pensi, a riatteggiamenti, comportamenti dinamiche legate al proprio ego e non alla propria anima. Abbiamo anche un nove di bastoni, è come se ci fosse una sorta di stanchezza per una qualche situazione o come questa sensazione. Guardate, in realtà sento proprio che c'è qualcuno che vorrebbe cambiare completamente dinamiche perché comunque qui abbiamo anche la forza e il sole, come se ci fosse questa volontà di andare oltre, di espandersi, ma un qualche tipo di dinamica continua a ripetersi. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dalla torre, andiamo a vedere a che cosa fa riferimento questa torre. Appeso ai nove di pentacoli. Potrebbe essere, allora per qualcuno si tratta di una situazione in separazione, o come questa idea, per qualcuno potrebbe essere una questione di di indipendenza sia monetaria ma anche caratteriale. È come se ci fosse o qualche dinamica o qualche credenza che state rivedendo con l'appeso che avete rivisto o che in un certo modo non potete fare altro che accettare. E ha a che vedere con... Allora potrebbe essere anche una questione lavorativa a livello di autonomia, cioè qualcuno che è autonomo e che in qualche modo deve rivedere questa posizione. Potrebbe fare riferimento alla indipendenza economica, quindi, piuttosto che all'indipendenza caratteriale. Come se ci fosse o qualche cosa o qualcuno da perdonare, ragazzi. Andiamo a vedere il 9. Un'altra volta il sole. Sole, papa, tre di spade, cavaliere di coppia e temperanza, di nuovo. E come se voleste da un lato mettere dei limiti, dall'altro mettere delle regole in quello che è la situazione che state vivendo o la relazione che state vivendo. Allora per qualcuno potrebbe risuonare come una situazione di coppia, per qualcun altro una questione di amicizia, per qualcun altro una questione familiare tra fratelli o cugini. Ed è come se ci fosse il bisogno di regolarizzare qualche cosa, perché la situazione, così com'è, vi sta stancando, vi sta... è un po' come se ci fosse qualcosa di stagnante. Invece c'è bisogno di andare oltre, c'è bisogno di muoversi, c'è bisogno di ritrovare un po' l'allegria, ritrovare un po' la genuinità, mi viene da dire, l'equilibrio vedendo questa temperanza. Qui con questo tre di spade c'è un qualche cosa... Guardate, io non lo so che cosa vi sia successo con la torre, però è come se fosse stata minata la vostra indipendenza. E di conseguenza qui è come se avessi bisogno di regolarizzare le cose per riportare l'equilibrio, per sentirvi sereni. Andiamo a vedere il sole. Allora, abbiamo un fante di bastoni, un asso di coppia e un due di pentacoli. Di nuovo, sento che ci sono delle dinamiche che vorreste rompere... Però... Allora, per qualcuno ci potrebbe essere una questione di ingenuità da dover elaborare. Per qualcun altro invece sento che è come se... Sì, come vi dicevo prima, si vuole andare oltre. Ho anche l'idea che molte persone abbiano bisogno di maturare ancora un po'. Prima di... Non so se la maturazione è proprio intrinseca della persona, di voi, oppure è la situazione qui che deve un attimino ancora sedimentare questo cambio. Andiamo a vedere la ruota. Abbiamo un otto di pentacoli. Mondo e sei di bastoni. E come, ragazzi, se ci fosse qualche questione, magari lavorativa, magari di riconoscimento, magari di ufficializzazione... C'è qualche cosa qua... Secondo me, a livello di lavoro, che blocca la situazione relazionale che avete con questa persona. Ripeto, e qui sento che è un po' collegata. Ovviamente non è così per tutti, eh. Se non è, per esempio, la situazione economica potrebbe essere il tempo. Come se, per esempio, voleste dedicare più tempo alle vostre cose, ma ci sono X questioni intorno alla situazione o alla relazione che non vi fanno godere appieno del tempo che invece potreste avere. Andiamo a vedere la sacerdotessa. La sacerdotessa nuovamente, mi sembra giusto, e lotto di spade. Allora, può fare riferimento al fatto che, diciamo, nell'ultima settimana di febbraio potreste avvicinarvi a una persona, a una guida. Tenete presente che avete sia la sacerdotessa che la temperanza. Mi parlano tutti e due di guarigione, mi parlano tutti e due di riequilibrio, di contatto con l'acqua. L'acqua è la parte femminile, la sacerdotessa parla del sacro femminile. O un po' come l'idea che dobbiate uscire da questa sensazione di stanchezza, da questa sensazione di carenza. Anche un po' dalla sensazione di fallimento, come questa idea, no? Perché in realtà siete voi, con questo otto di spade, che vedete le cose in modo molto negativo. Siete nel giudizio, avete bisogno di semplicemente amare le cose così come sono, senza aspettative. Cose o persone, eh? Si tratta un po' di accettare quello che state vivendo, soprattutto se non potete fare niente per cambiarlo. Come della temperanza? Perché comunque la temperanza ce l'avete qui, ma ce l'avete anche qui. Quindi comunque verso la fine di febbraio è come se un equilibrio si trovasse. Dieci di pentacoli, infatti. Potrebbe anche essere... Uh! È giudizio. Potrebbe essere, ragazzi, una questione familiare, come vi dicevo, tra cugini e fratelli. Quindi vedo che alla fine del periodo le cose vanno molto meglio rispetto a questa torre iniziale di metà febbraio. Ci potrebbero essere notizie che arrivano, che comunque riportano le cose in equilibrio. Andiamo a vedere la forza. Quello che mi lascia perplessa è questo asso di coppa al contrario. Adesso andiamo a vederlo. Allora, qui abbiamo la luna e l'eremita. Guardate, vi sento proprio uscire dai dubbi. Prendere, ecco, la carta degli innamorati fa anche riferimento a una scelta per amor proprio. Prendere una decisione per voi stessi, stavo dicendo. E vi dico che comunque alla fine c'è o la firma di qualche tipo di contratto che già intravedevamo qui con la carta del Papa, un accordo, qualche notizia, qualche tipo di eredità. C'è qualcosa che arriva comunque. Se non avete nessuno, ragazzi, le letture dei single sono già online. Le potete comunque integrare con questa lettura. Però qui ho come la sensazione che siate più, diciamo, verso... Cioè l'energia della lettura si è più verso quello che è o la famiglia o un gruppo di amici, o diciamo qualche amicizia. Nel caso avesse una persona di interesse, vi dico, è come se voleste trasformare questa amicizia, questa conoscenza in qualche cosa di più, ma c'è come una sensazione di non essere abbastanza che un po' vi frena. Ed è per quello che qui arriva la sacerdotessa e vi dice non giudicate giusto o sbagliato, tanto o poco, nel senso che ognuno ha la propria impronta di anima, no? Ed è il vostro modo di pensare che avete bisogno di cambiare, proprio per riportare l'equilibrio. E qui comunque con la carta della forza, alla fine, ragazzi, abbiamo questa apertura di cuore che io sentivo qui all'inizio con la carta degli amanti, eh? E' una bella lettura, tutto sommato, pesci. Va bene, andiamo a vedere una di queste carte, possiamo chiamarli oracoli, per non declassarli, ecco, a semplici carte. Perché sono carte che ho scritto io, però mettono in evidenza quello che potrebbe essere un lato d'ombra di questa situazione o di questa relazione, così uno, quando lo sa, inizia a lavorarci. Andiamo a vedere. Scoraggiamento. Eh sì, un po' sì. Probabilmente questo è l'asso di coppe che è. Ah, datemi una carta per l'asso di coppe, avevo detto che lo guardavo. Sì, è come se ci fosse una sorta di vuoto a livello emotivo. Ok, scoraggiamento, e ve lo metto qui perché vi dico, lo sento abbastanza collegato. Oscurità, ve lo metto qua vicino all'otto di spade, perché è proprio il senso di questa carta, è un po' come se dovesse uscire dall'oscurità, dalla nebbia, da tutto quello che sono i pensieri negativi, dai pensieri autosabotanti, dal senso di colpa, dal senso di essere una vittima della vostra vita, perché comunque sappiamo che siamo noi che creiamo la nostra realtà con la vibrazione che emaniamo quando pensiamo, quando parliamo, anche quando agiamo, anche quando sentiamo. Parole, pensieri, emozioni e azioni creano una vibrazione. Per ottenere un risultato queste quattro cose devono essere tutte in linea, devono andare tutte nella stessa direzione. E poi abbiamo afflizione. E la sento un po' qua con la luna, ragazzi. Anche se in realtà la luna qui è girata al contrario, quindi non la sento così negativa. Va bene, ve lo metto qua vicino all'otto di spade. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Potete farmelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere di sostenere il canale, potete iscrivervi o condividere il video. E se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!